Quando sono arrivati, sono scesi dalla macchina, sono andati direttamente alla bottega dell'orafo e hanno cominciato a rompere il vetro. E niente, io ho cominciato a chiamare aiuto e dopo dei signori penso che abbiano chiamato la polizia. Rapina a mano armata in pieno giorno ai danni di un laboratorio orafo a retino. È successo venerdì pomeriggio attorno alle 15 alle porte del centro di Arezzo. Ci troviamo infatti nel quartiere Giotto. Il primo bandito è entrato all'interno del locale come un normale cliente ma ha poi spruzzato uno spray urticante sul volto dell'orafo. Una volta dentro ha permesso l'accesso anche ai suoi complici, tre ma viventi a volto coperto di cui un armato di pistola che hanno distrutto il vetro all'ingresso del laboratorio. I rapinatori hanno poi immobilizzato l'orafo con del nastro da elettricista e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte. Un colpolampo durato appena due minuti, la banda si è infatti data alla fuga con un bottino che si aggira attorno ad 80.000 euro tra oro lavorato, diamanti ed infine contanti. Ad attendere i banditi fuori dal laboratorio un quinto complice con il motore dell'auto acceso per poter fuggire così alla svelta una volta messo a segno il colpo. A lanciare l'allarme alcuni passanti che si sono resi conto che il negozio era aperto ma con un vetro rotto. Contemporaneamente lo stesso Orafo una volta riuscito a liberarsi ha chiamato le forze dell'ordine. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile di Arezzo guidata dal dirigente Francesco Morselli. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona. Si viva la giornata, si spera sempre che non capiti a te, ma sai i negozi sono sempre presi di mira. Grazie a tutti.